I carabinieri di Sarzana hanno smentato un progetto di un duplice femminicidio. È stato arrestato un uomo di 50 anni, un impiegato originario di Parma ma da tempo residente in Val di Magra, che aveva intenzione di eliminare moglie e suocera e che per mettere in atto il suo piano criminoso aveva già contattato un sicario, concordando una cifra di 30.000 euro per i due omicidi. L'uomo aveva chiesto al sicario, contattato nell'ambiente malavittoso, un lavoretto pulito e per questo l'aveva incontrato prima per portargli una prima tranche della somma patuita. Il resto sarebbe stato corrisposto al lavoro eseguito. Poco prima della consegna del denaro però sono sbucati fuori i carabinieri che hanno arrestato l'impiegato. Probabilmente il pregiudicato coinvolto in questa storia, davanti all'idea di compiere un duplice omicidio, ha preferito lasciar perdere. Così si è recato l'appuntamento fissato per ricevere i primi 10.000 euro, ma c'è andato accompagnato dai carabinieri di Sarzana. Le indagini serratissime sono iniziate una settimana fa. I militari che hanno messo subito in sicurezza le due vittime designate hanno scoperto che le intenzioni dell'uomo impiegato aziendale risalivano a qualche tempo prima e solo di recente il progetto aveva subito un'accelerazione. Così ieri pomeriggio hanno arrestato un impiegato proprio nel momento in cui stava trasformando i propositi in realtà, compiendo un'ultima azione che avrebbe segnato la fine delle due ignare vittime. Una volta accompagnato in caserma, la procura ne ha disposto immediatamente il trasferimento in carcere. Dietro la decisione di uccidere moglie e suocera ci sarebbe un motivo economico.